e occhio che sono quelli di prima e ci fanno male siamo due in meno siamo due in meno e questo è quello di tutti i tank e occhio e questi sono bravi e sono due in più di noi sono otto e noi siamo sei siamo in sei contro otto non so voi scusate 6 contro 7 che fate? si chiama un pg siamo uno in meno siete full? no mi date i 5 minuti che finisco di sistemarmi il pg e arrivo qui uno in meno significa tanto significa wippare ando bene facciamo cashmere va? aiuto castro c'è castro miuro oh castro cura e al secondo giro ci vuole il berserk per prenderli si giù ah sto andando sto andando mi fai duro lo stesso mi sta ecco non so mi sto per buttare ci sei ok ecco